Solo video a tema Roma sul secondo canale ultimamente, però ragazzi, per ovvi motivi, perché, ragazzi, Ghisolfi, cosa sta cucinando? Cosa ha cucinato oggi? Ragazzi, Artem Dobvik è un nuovo giocatore della Roma, mancano solo le firme. Ci sono già tutti gli accordi con la società, con gli agenti del giocatore, Girona, Roma, insomma. Ragazzi, Artem Dobvik, che poi in ucraino si regge Artyom, però comunque Artem. Artem Dobvik, ragazzi, o passerà alla Roma per una cifra che più o meno adesso, quello che trapela, si parla di circa 34, 33, 34 milioni, più bonus, e il 10% sulla futura rivendita del giocatore che andranno ovviamente al Girona, che tra l'altro grande, diciamo, plus valenza, perché pagato, se non sbaglio, l'anno prima, 8 milioni, poi chiaramente dall'incredibile stagione che ha fatto il Girona, sono derivati questi 35 milioni, 34, insomma quanti sono. Ragazzi, la Roma doveva fare questo colpo in attacco, per forza di cose, perché se te dovevi andare a rimpiazzare chi avevi prima, dovevi andare a prendere un giocatore che lo conosce adesso, o si è fatto conoscere in tutto il mondo, che ha dato delle garanzie, e che in questo caso ha messo a referto 24 gol in una sola stagione. Se non sbaglio è stato il capo cannoniere della Liga l'anno scorso, chiaramente è un signore attaccante. Ora, ora, ovviamente un conto l'era per esempio Lukaku, che negli anni ti ha fatto capire che è stato un grandissimo attaccante, è un grandissimo attaccante, che in tutta la sua arriera ha messo, se non sbaglio, più di 300 gol in porta, nelle varie squadre in cui è stato, tra Premier, Serie A, insomma, mentre Dovic è la sua primissima grande stagione da professionista, insomma. Però alla Roma serviva un profilo del genere, serviva un giocatore comunque già pronto, un attaccante dal fiuto del gol, dalle prestazioni sicure. Certo è che comunque, pagato tanto, come Sule, ovvio che la Roma se li può permettere questi colpi per, in generale, la società, o comunque per quello che ha fatto ultimamente nella sua realtà, chiaramente è uno di quei giocatori che, se uno ha visto le partite del Girona dell'anno scorso, molto forte, rapinatore d'area di rigore, veramente forte, davvero con la palla tra i piedi, quando è in area, però è uno di quei giocatori che deve essere servito a dovere, perché l'anno scorso aveva tantissimi giocatori al suo fianco che comunque lo servivano a modo, perché l'anno scorso, ragazzi, il Girona era una squadra incredibile, incredibile. Io mi sono innamorato in particolare di Savio, Ian Couto, ragazzi, terzino incredibile, che tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe passare al Dortmund, se non c'è già passato, per, tipo, tanti soldi, tipo 30-35 milioni, una roba del genere. Tantissimi giocatori che hanno portato il Girona a fare la Champions League l'anno prossimo, cioè, in realtà, quest'anno che appunto sta per arrivare, e Artendovic è stato uno di questi. Chiaramente la Roma, più che altro, serviva appunto questo tipo di profilo, anche perché se davvero vuoi ripuntare, o comunque vuoi tentare di ripuntare alla zona Champions, ti serve il nome di uno che ha smosso, ha smosso nettamente i livelli della squadra, di cui in questo caso era in precedenza, perché appunto l'accordo ormai c'è con la Roma e quindi sarà un nuovo giocatore della Roma. Per me, ragazzi, è un colpo da nove, cioè la Roma non poteva fare meglio di così per il tipo di profilo, il tipo di giocatore, è un giocatore sì che lo vai a pagare tantissimo, praticamente quanto sulle, però è una garanzia, cioè non ci si sbaglia, ragazzi, è una garanzia. Certo, ovviamente vai in una squadra adesso che rispetta il Girona, nonostante si faccia la Champions League l'anno prossimo il Girona, è un upgrade di carriera, perché comunque la Roma, ragazzi, è un upgrade di carriera. Poi magari il Girona diventerà l'Atalanta della Spagna adesso, nei prossimi anni, però quello non si può mai sapere, magari diventa una delle tantissime meteore che poi piano piano esploderà, nel senso che imploderà su se stessa. Come sono successe tante volte negli anni queste piccole meteore nei campionati che poi alla fine non sono mai andate da nessuna parte. Però ragazzi, tanta roba, gran colpo, veramente gran colpo. A me piace tanto come giocatore, appunto vi ripeto, io ho visto tante partite del Girona l'anno scorso perché ero affascinato da questa squadra che non si sa come, non si sa perché, ma riusciva a portarsi a casa in maniera convincente, ovviamente, non catenacce e contropiede alla versione Grecia 2004, europea 2004, ma con, giocando veramente bene a calcio, i risultati appunto anche contro le Big, e Dobvik è stato uno di quelli che alla fine ha reso possibile questa cosa qui. Sono veramente curioso di vederlo l'anno prossimo, nel campionato comunque, perché potrebbe essere uno di quei giocatori che, versione Lukaku, ti potrebbe cambiare la stagione. E la Roma, diciamo che dopo anni che non riesce ad entrare in Champions, ne ha bisogno, perché, diciamo che la Roma punta a quello. Cioè, la realtà Roma punta a ritornare in Champions dopo tanti anni che manca, anche per ovvi motivi, introiti, anche in generale, blasone, storie, insomma. Quindi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, ma io penso che questo era il miglior colpi in attacco che la Roma avrebbe potuto, si sarebbe potuta permettere. Meglio di così davvero non potevano fare, quindi bravi loro perché vai a prendere un attaccante sicuro, non una scommessa. Questo, sì, passi comunque da scommessa nel senso che le pressioni che aveva, tra virgolette, nel Girona non sono quelle che avrà a Roma, sono altri livelli di pressioni. Però, per un giocatore del genere, io penso che tutta Roma lo sosterrà sempre fino alla fine del campionato, dovesse anche fare male, ma non penso che sarà il suo caso.